Slitta domani la decisione del plenum del Consiglio Superiore della Magistratura sulla riconferma di Roberto Rossi alla guida della Procura della Repubblica di Arezzo. Il CSM, su proposta del membro laico di Forza Italia Michele Cerabona, ha infatti rinviato la trattazione della questione per approfondire la memoria difensiva presentata dallo stesso magistrato Aretino. Dunque due adesso le possibilità potrebbe essere valutato se riaprire gli istruttori in commissione oppure il plenum di Via dei Marescialli potrebbe ricorrere al voto palese. La riconferma di Rossi per il prossimo quadriennio resta in bilico, c'è infatti una proposta contraria votata a maggioranza dalla quinta commissione di cui il relatore è Pier Camillo Davigo, secondo il quale il procuratore Aretino non andrebbe riconfermato perché avrebbe compromesso, almeno sotto il profilo dell'immagine, il necessario requisito dell'indipendenza dai propri condizionamenti a causa di un incarico al Dipartimento Affari Giudiziari della Presidenza del Consiglio dei Ministri, mantenuto anche dopo l'avvio dell'indagine su Banca Etruria. L'inchiesta ha visto tra gli indagati anche il padre dell'allora ministro, Maria Elena Boschi. L'altra proposta, quella che invece chiede la conferma di Rossi nell'incarico di procuratore, è stata votata solo dal togato di Unicost Marco Mancinetti, che ne è relatore. Nel frattempo sono arrivati molti messaggi di solidarietà e stima al procuratore, con lui infatti si sono schierati magistrati e avvocati Aretini, come del resto tutto il personale amministrativo della procura, messaggi di solidarietà anche dai risparmiatori azzerati della vecchia Banca Etruria.